Sì, diciamo che non sono considerato un velocista puro, ecco, vado bene su percorsi tortuosi e delle volate pure così da velocisti, diciamo, faccio un po' fatica. Riesco sempre a giocarmela perché sono uno che si punta molto facilmente e non ha paura, quindi riesco spesso ad ottenere buoni risultati.